Simone, come si vive questa situazione un po' anomala? Rinvio sabato e questa attesa per vedere se si giocherà o meno contro la Juve Stapia. Voi giocatori come la state vivendo? No, noi stiamo preparando la partita convinti che si giochi. Poi le decisioni sulla partita, se giocarla o no, aspettano al prefetto, agli altri. Comunque noi la prepariamo per giocarla. Noi pensiamo a prepararla bene, poi vediamo quello che succede. Per quanto riguarda il discorso classifica, i risultati della settimana scorsa, nonostante voi non abbiate giocato, sono stati positivi? Sì, c'è stato il pareggio tra Padova e Verona. Poi non hanno giocato il Torino e il Sassuolo, quindi le tre prime in classifica sono allo stesso numero di partite. Quindi di partite ne mancano ancora tante. Pensiamo una partita alla volta e cerchiamo di fare il meglio possibile. Senti, è vero che di partite ne mancano ancora tante, però si comincia già un po' a fare tifo contro. Vabbè, è normale che alla fine il campionato lo vince chi fa più punti, quindi noi dobbiamo pensare a vincere. È ovvio che se vincono sempre anche le altre è dura, però noi dobbiamo più che altro pensare a noi più che agli altri. Grazie a tutti.